andiamo a sperare che è vero o male questo è strusciato da qualche parte che non ci inficchiamo questo qua se ci sta e abbiamo risolto non so se ci stavano ci dò gravata forza la ragazzi siamo fatta apposta domani ci fa un po' che fortuna ogni tanto lo accendiamo e vediamo se perde grazie 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 grazie